è iniziato tutto con poco sconosciuti senza nessuno al mondo uccisi dimenticati con le gole squarciate la chiesa non si curava delle morti e cui numero cresceva come la paura disperati e audaci hanno provato a eliminare la corruzione ma era troppo tardi li ha cambiati uccisi e sono tornati affamati ho combattuto a lungo questa piaga ci serve altro un essere irriducibile che abbia tutta la loro forza e nessuna delle nostre debolezze qualcuno di inaspettato e chi potrebbe essere più inaspettato di te e chi potrebbe essere più inaspettato di te e chi potrebbe essere più ognuno di te Grazie a tutti 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 Grazie a tutti